Enrico Scandella, come sta andando questa raccolta firme? Diciamo che la raccolta firme è stata, magrado le condizioni avverse meteorologiche, comunque siamo molto contenti in quanto tanti cittadini del Comune di Clusone sono venuti, hanno recepito il nostro invito, sono venuti al gazebo e hanno comunque firmato. Abbiamo avuto una raccolta abbastanza buona di firme al gazebo. Adesso comunque ci sono ancora la possibilità di firmare in alcune parti del nostro paese, in alcuni negozi piuttosto che bar e poi abbiamo anche altre persone che ci hanno aiutato. La cifra esatta delle firme la daremo penso tra una settimana, un dieci giorni. Perché si può quindi ancora firmare? Nel frattempo, con questi due pomeriggi, quante ne avete raccolte? In questi due pomeriggi all'incirca avremo raccolto più o meno 400 firme. Come ripeto, considerando il fatto che comunque dalle tre e mezza più o meno verso le sette ci sono poche ore e poi le condizioni, come ripetevo prima, avverse, siamo comunque molto molto soddisfatti. Anche perché non è che abbiamo dovuto sollecitare le persone a venire a firmare. Erano persone comunque che sapevano le tematiche, sono venute, hanno contribuito con la loro firma. Abbiamo anche avuto modo comunque di discutere, di parlare. E' stato rimarcato il fatto che Viale Gosmini, la sistemazione di Viale Gosmini con 2 milioni 200 mila euro, diciamo, quelle persone che noi abbiamo potuto interpellare pensano che non sia la cifra idonea da investire in questa strada. E quindi si sente anche la necessità del palazzo? Sì, il palazzetto è ovviamente il palazzetto, come abbiamo detto, un palazzetto ridimensionato. Comunque la necessità di... Ci sono venute molte persone che comunque hanno capito che non è soltanto un discorso sportivo, ma può avere una valenza turistica, una valenza anche per le manifestazioni. E dunque, secondo noi, considerando il fatto che poi tante persone che abbiamo incontrato nel nostro comune, diciamo, a Gazebo, erano persone comunque di Villa Donia, di Val Bondione, comunque dicevano anche loro, anche noi nel nostro paese abbiamo il palazzetto, ovviamente è stato uno sprono anche per noi, per dire anche Clusone dovrebbe avere una struttura di questo tipo.